Sesta corsa premio versiliese d'Apoa, è il terzo turno del convegno per i tre anni, questo per sole femmine sul miglio, sono otto al via dopo il ritiro numero 4 di Bernadette di WS e sei dunque in prima fila, con l'uno Bye Bye Fili F Alessandro Gocciadoro, il due Bluestar, il tre Bebida Fria, il cinque Baciata dai fonti, il sei Bertans e il sette Bye Bye Laser. Seconda fila per l'otto di Bambi e il nove di Belen, è rimasta arretrata Bambi rispetto alle altre, parte piano Bye Bye Laser e dall'esterno Bertans sopravanza a Bye Bye Fili F ma sbaglia, e allora Bye Bye Fili F resta al comando su Baciata dai font, Al terza posizione lungo la corda c'è il numero due che però sbaglia, Bluestar, e allora Baciata dai fonti si sistema a seconda, dalla seconda fila veloce Belen che rientra a Bye Bye Laser. Poi quinta posizione per Bebida Fria, sono cinque le soperstiti della fase iniziale, Bambi che cerca di ricongiungersi dopo essere partita in ritardo, all'inseguimento anche Bertans che prende la via del largo dalla retroguardia. Bye Bye Fili F che comanda dopo un primo quarto in 29-8, seguita sempre da Baciata dai fonti e Bluestar. Poi c'è Bye Bye Laser davanti, scusate terza posizione è Belen davanti a Bye Bye Laser, poi Bebida Fria, situazione che non cambia in avanti con Bye Bye Fili F che comanda liberamente e completa il mezzo miglio iniziale in un comodissimo 1-2 e mezzo, quindi sul piede dell'1 e 18 davanti a Baciata dai fonti, Belen, Bye Bye Laser, Bebida Fria e Bambi che muove a largo dalla retroguardia. Bambi che sopravanza a Bebida Fria e va al Sarchi di Bye Bye Laser che accenna ad anticiparla, allora Bambi ripiega in quinta posizione, mentre Bye Bye Laser muove a largo di Belen, Bye Bye Fili F comanda su Baciata dai fonti, Belen, l'errore di Bye Bye Laser. Quarta posizione allora per Bambi davanti a Bebida Fria, poco prima dell'ingresso in retta d'arrivo, in vantaggio Bye Bye Fili F sposta dalla sua scia a Baciata dai fonti, poi Belen e Bambi, Bye Bye Fili F in vantaggio su Baciata dai fonti che ora torna nella sua scia, poi Belen sbaglia a Bambi, Bye Bye Fili F in fuga ora da Baciata dai fonti che è inseguita da Belen nel finale, stacca e Bye Bye Fili F, Belen attacca Baciata dai fonti, la sta rimontando, vince Bye Bye Fili F nettamente su Belen e Baciata dai fonti, 1-9-5 l'arrivo ufficioso della sesta di capanelle, 2-2 sul mio cronometro, media di 1-16-2 per la favoritissima Bye Bye Fili F al comando da un capo all'altro, anche grazie all'errore di Bertaz e nettissima sul palo per la seconda vittoria a seguire sulla pista, per l'allieva di Alessandro Gocciadoro, la figlia di Sebastia Anchei e Irene Grandi OM che vince nettamente su Belen che sposta dalla terza posizione e batte Baciata dai fonti per il posto d'onore, 1-9-5 l'arrivo ufficioso della sesta di capanelle, linea allo studio. Grazie a tutti!